ma guarda come vanno vicino all'acqua eccolo è uscito scusate è pieno di zanzare mi stavano mangiando si ma l'ho ripreso il problema è che è pieno di zanzare che mi stanno divorando si posano persino sulle mani è solo che tu stai facendo il video e infatti l'ho mosso anche io il problema è che lo devo anche far mettere è meglio che non venga troppo avanti il toro tu sei anche vestita di rosso sembrano i tre porcellini tutta in fila facciamo vedere il mio piano per farlo fanno un po' più in alto queste bolle se no non si vedono ne è passata una davanti se no non si vedono